Giovani, belli e della simpatia coinvolgente, capaci di meritare applauso dei presenti dimostrando un avverbo eccezionale. Sono i principini protagonisti della 55esima edizione del Carnavale di Salassa, che nella sua declinazione 2024 entrerà nel vivo la prossima settimana, nel weekend del 27 e 28 gennaio. Sono Giorgia Simone e Domenico Costanzo, compagni di scuola che frequentano la terza elementare presso il presso scolastico salassese, i quali sono stati presentati in maniera ufficiale nella mattinata di sabato 20 gennaio presso il Salone del Comune di Salassa. Alla presenza della prima cittadina Roberta Bianchetta, dei rappresentanti del comitato organizzatore del Carnevale, nonché di quelli dell'Associazione Cittadina, dei genitori, dei nuovi personaggi della festa e degli appassionati della cremesca nascialesca canavesana, Giorgia e Domenico hanno ricevuto dai personaggi 2023, al secolo Giorgia Ricca ed Emanuele Franceschino, le chiavi della città, quindi hanno letto l'edito che ufficialmente apre l'evento. Tra foto di rito, distribuzione di dolcetti e tanta allegria, la mattinata è trascorsa tra l'esate e buon umore. Come anticipato, ora l'appuntamento si sposta sabato 27 alle 21, con la sfilata notturna, nonché a domenica 28, con in mattinata la fagiolata allestita dalla Proloco e la Santa Messa, quindi nel pomeriggio alle 14.30, la seconda sfilata dei Carri alle Gorci.